In questo video mi occuperò del congiuntivo presente. Attenzione, questo filmato è rivolto principalmente a italiani che vivono da poco in Germania e hanno necessità di ripassare anche la grammatica italiana e a stranieri che vivono in Italia e desiderano imparare anche il tedesco. Iniziamo col capire quando va usato il congiuntivo. Il congiuntivo serve per indicare un evento irreale, ipotetico oppure non rilevante. Vi faccio degli esempi. Io so che Marco è bravo a giocare a tennis ma non sa giocare a calcio. Questa frase è composta da proposizioni che hanno il predicato, in questo caso il predicato è un verbo, al tempo presente e all'infinito. Io so che Marco è bravo a giocare a tennis ma non sa giocare a calcio. Io so, ovviamente io è il soggetto, so è la voce del verbo sapere al presente indicativo. Cosa so io che Marco è bravo? Marco, ovviamente il soggetto, è voce del verbo essere sempre al presente indicativo. Vabbè, bravo è l'aggettivo qualificativo. A giocare a tennis. Giocare, un altro verbo, in questo caso è l'infinito del verbo giocare. È bravo a giocare a tennis ma non sa. Sa, voce del verbo sapere, al presente indicativo. Non sa giocare a calcio. Giocare, anche in questo caso è l'infinito del verbo giocare. In questa frase io vi dico che so per certo cosa sa fare Marco e quindi posso usare il presente indicativo. Ma se faccio solo un'ipotesi non posso più dire io so che Marco è bravo a giocare. Quindi non posso più usare il presente indicativo. Ma per fare un'ipotesi devo usare il presente del congiuntivo. Quindi la frase diventa io credo che Marco sia bravo a giocare a tennis ma non a calcio. Vedete? Io so diventa io credo ed è sempre il presente indicativo in questo caso. Poi dico che Marco sia bravo a giocare ed è qui che non posso più usare il presente dell'indicativo ma devo usare il presente del congiuntivo perché sto ipotizzando che Marco sia bravo a giocare. Io credo che Marco sia bravo a giocare. Vediamo ora il congiuntivo presente del verbo essere. Che io sia, che tu sia, che lui sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Questo è il tempo presente del congiuntivo. Ora vediamo sia il presente dell'indicativo che il presente del congiuntivo. Presente dell'indicativo. Io sono. Presente del congiuntivo. Che io sia. Io sono. Tu sei. Lui è. Che io sia. Che tu sia. Che lui sia. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Che noi siamo. Che voi siate. Che loro siano. Vedete la differenza? Il presente indicativo si usa per indicare il presente ma quando si ha certezza di una cosa. Mentre il presente del congiuntivo si usa quando si vuole ipotizzare una cosa, non si ha certezza di una cosa. Vi faccio degli esempi con l'aggettivo qualificativo bravo. Io sono bravo. Io sono bravo. Tu sei bravo. Lui è bravo. Eccetera. Questo è il presente dell'indicativo. Che io sia bravo. Che tu sia bravo. Che lui sia bravo. Questo invece è il presente del congiuntivo. Vedete la differenza tra quando uno ha certezza nel dire una cosa e quando uno ipotizza un qualcosa. Quindi io non posso dire tu sei bravo ma penso che loro non lo sono ma devo dire che loro non lo siano perché è un'ipotesi che faccio. Non ho la certezza assoluta. Quindi io penso che loro non lo siano. Sono sicuro che tu sei bravo quindi posso usare il presente indicativo e dire tu sei bravo ma devo usare il presente del congiuntivo per ipotizzare che loro non sono bravi. Quindi dico ma penso che loro non siano bravi. Che loro non lo siano. Ora vediamo quando e perché si usa il presente del congiuntivo nella lingua tedesca. In tedesco, in generale, il tempo presente del congiuntivo si usa nel discorso indiretto e nella lingua scritta. Ripeto, il presente del congiuntivo si usa nel discorso indiretto e nella lingua scritta. Nel discorso diretto, invece, si usa il presente dell'indicativo. Vi faccio un esempio. Tu sei bravo. Du bist gut. Se invece voglio dire io credo, io penso che tu sia bravo, ich denke du bist gut. In realtà ho detto io penso, tu sei bravo. Quindi, mentre in italiano uso il presente del congiuntivo, in tedesco uso sempre il presente dell'indicativo. In italiano, io penso che tu sia bravo, è una frase formata da due proposizioni con due verbi. Il primo verbo è al presente dell'indicativo, mentre il secondo verbo è al presente del congiuntivo. In tedesco, i verbi delle due proposizioni sono entrambi al presente indicativo. Quindi, io penso che tu sia bravo diventa, io penso, tu sei bravo, ich denke, du bist gut. Due proposizioni con due verbi che hanno entrambi il presente dell'indicativo. Io penso, presente dell'indicativo, del verbo pensare. Tu sei, tu sei bravo, presente indicativo, del verbo essere. Vediamo altre frasi. Tu sei bravo, ma penso che loro non lo siano. In tedesco diventa Volendo usare l'aggettivo qualificativo, cattivi, posso dire Noi siamo bravi, ma credo che loro siano cattivi. In tedesco diventa Noi siamo bravi, ma io penso, loro sono cattivi. Wir sind gut, aber ich denke, sie sind schlecht. Se dico Maria è a casa È una sola proposizione in cui uso il tempo presente dell'indicativo. Io ho la certezza che Maria è a casa. Se invece non ne ho la certezza e dico Io suppongo che Maria sia a casa Io penso che Maria sia a casa In italiano uso il presente del congiuntivo nella seconda proposizione. La prima proposizione è Io suppongo che La seconda proposizione Maria sia a casa In questa seconda proposizione io devo usare il presente del congiuntivo perché sto facendo una supposizione. In tedesco diventa Io penso Maria è a casa Ich denke Maria ist zu Hause Credo, penso, che Brigitte stia leggendo In tedesco diventa Io penso Brigitte legge Ich glaube Brigitte liest Io penso Brigitte legge Ich glaube Brigitte liest Io so che Marco è bravo a giocare a tennis In questa frase io esprimo una certezza Io so che Marco è bravo a giocare a tennis Mentre se io dico Io credo che Marco sia bravo a giocare a tennis Ho usato il presente del congiuntivo nella seconda proposizione perché esprimo un dubbio Non sono sicuro al 100% che Marco sia bravo a giocare a tennis In tedesco diventa Io credo che Marco bene a tennis giocare può Ich glaube, dass Marco gut tennis spielen kann Io so che Marco è bravo a giocare a tennis e credo che lui possa diventare il numero uno In tedesco diventa Io credo che lui il numero uno diventare può Ich glaube, dass er die Nummer eins werden kann Anche se il presente del congiuntivo non viene molto usato vediamo come si coniuga utilizzando i verbi essere e avere Iniziamo dal verbo essere e vediamo come si coniuga in italiano e in tedesco Congiuntivo presente Che io sia Che tu sia Che lui sia Che noi siamo Che voi siate Che loro siano Coniuntivo eins Presenz Ich sei Du seist Er sei Wir seien Ihr seiet Sie seien Passiamo ora al verbo avere Congiuntivo presente Che io abbia Che io abbia Che tu abbia Che lui abbia Che noi abbiamo Che voi abbiate Che loro abbiano Coniuntivo eins Presenz Ich habe Du habest Er habe Wir haben Ihr habt Sie haben Ripeto In tedesco Il congiuntivo presente È poco usato Si usa solo nel discorso indiretto E nella forma scritta Anche se ultimamente Anche nella forma scritta Viene poco usato Quindi Nella lingua tedesca Al posto del congiuntivo presente Si usa il presente Dell'indicativo Ora diamo un'occhiata Al passato del congiuntivo Abbiamo già visto che Il presente del congiuntivo In tedesco Corrisponde al Presenz Del Coniuntiv Eins Mentre Il passato Del congiuntivo In tedesco Corrisponde Al Perfect Del Coniuntiv Eins Quindi Ripeto In italiano Abbiamo il presente E il passato Del congiuntivo Che in tedesco Corrispondono Al Presenz E al Perfect Del Coniuntiv Eins Anche se sappiamo Che in tedesco Non vengono Quasi mai usati Quindi Scusatemi Se mi ripeto Ancora Ma è importante Ribadirlo Per memorizzarlo Bene In italiano In italiano Il presente E il passato Del congiuntivo Vengono usati E servono a sostituire L'indicativo Presente E il passato Prossimo Dell'indicativo Quando vogliamo Esprimere Un'incertezza Quando non siamo Sicuri di un qualcosa Quindi nelle frasi In cui usiamo Ad esempio Il verbo Io penso Io credo Io suppongo Quindi il verbo Supporre Il verbo Credere Il congiuntivo Presente E il congiuntivo Passato In tedesco Corrispondono Al Presente Del congiuntivo Eins E al Perfetto Del congiuntivo Eins Poi abbiamo Anche l'imperfetto E il trapassato Del congiuntivo Che in tedesco Corrispondono Al Preteritum Del congiuntivo Zwei E al Plusquam Perfetto Sempre Del congiuntivo Zwei Ora vi coniugo Solo la prima voce Del verbo avere In questi quattro tempi Che io abbia Ich habe Che io abbia avuto Ich habe gehabt Che io avessi Il congiuntivo Del congiuntivo Zwei Corrisponde Al nostro Congiuntivo Imperfetto Ma corrisponde Anche Al presente Del condizionale In italiano Vi faccio Un esempio Se fossi ricco Sarei più contento Questa frase è formata Da due proposizioni La prima Se fossi ricco La seconda Sarei più contento Nella prima proposizione C'è la prima persona Singolare Dell'imperfetto Del congiuntivo Del verbo Essere Fossi Se io fossi Nella seconda Proposizione C'è la prima persona Singolare Del presente Del condizionale Del verbo Essere Sarei Io sarei Questi due tempi E cioè L'imperfetto Del congiuntivo E il presente Del condizionale In tedesco Vengono tradotti Entrambi Dal Preteritum Del Coniuntiv Zwei Quindi Se fossi ricco Sarei più contento In tedesco Ven ich reich wäre Wäre ich zufriedna Vedete Ho usato Wäre Per tradurre Sia fossi Che sarei Io fossi Ich wäre Io sarei Ich wäre Ho usato 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 Grazie a tutti.